I fatti occorsi la settimana scorsa avevano bisogno di un segnale forte e mi sembra che oggi in piazza Memeli si sta dando veramente un grande segnale. Sì, è importante essere qua oggi in tanti, tanti cittadini, tante istituzioni, tanti partiti politici, associazioni, tutte unite per veramente condannare quanto è successo una settimana fa a Savona, ma anche i tanti fatti che stanno susseguendo e che seguiamo con preoccupazione in tutta Italia. Il PD si è dimostrato naturalmente vicino a questi fatti, l'amministrazione comunale però non è presente neanche oggi. Sì, questo era chiaro e non pensavo di trovare l'amministrazione comunale savonese qua oggi, dico la verità. Io trovo veramente grave il fatto che qualcuno, soprattutto quando amministra una città, una città capoluogo di provincia, si approvi a derubricare il fascismo come qualcosa appartenente al passato o da lasciare ai libri di storia. Io direi che è importante mantenere vivo i ricordi, tutto quello che è stato fatto per contrastare il fascismo, tutte le persone che hanno dato la vita e la famiglia per combattere il fascismo.